La 74esima edizione del Festival di Sanremo, siamo qui nel salotto delle celebrità, commenteremo insieme i 30 artisti in gara, le canzoni, tutto quello che succede nel backstage, ma parleremo anche di medicina. Do il benvenuto ai miei splendidi ospiti, Jessica Cardinale benvenuta, Natali Caldonazzo, la dottoressa Stella Scarpa, ideatrice del Beauty Personal Trainer e il dottor medico-chirurgo Mauro Cirilli, responsabile e ideatore del macchinario Ormone, un macchinario che nasce per i trattamenti estetici. Allora Stella, parto subito da te. Come nasce questo progetto? Come mai ti sei avvicinata alla medicina estetica? Allora, il nostro payoff è sempre stato uno soltanto, ovvero innovazione nella bellezza. In questo mondo bisogna assolutamente portarci avanti e soprattutto stringere relazioni virtuose. In che senso? Non possiamo focalizzarci nel rimanere fermi nel nostro ambito, ma cercare di collaborare con altri professionisti che possono evolverlo, innovarlo, renderlo scientifico in maniera tale da agire sempre più in maniera coscienziosa, quindi con scienza e conoscenza e coscienza. Ecco perché ho voluto relazionarmi alla medicina e soprattutto farlo con medici veramente di altissimo calibro da punto di vista professionale, come il dottor Cirilli. Dottore, benvenuto. Allora, lei è l'idiatore, il creatore del macchinario Ormone, un macchinario che nasce per i trattamenti estetici del viso, ma anche del corpo. Esattamente, sì. Diciamo che fino ad oggi i macchinari del genere non erano in commercio, non esistevano macchinari singoli, sicuramente sì, ma questa multipiattaforma è stata ideata per comprendere e dare procedimento medico a 360 gradi per tutti gli inestetismi possibili. Abbiamo ideato questa piattaforma che comprende diversi tipi di forme di energia che possono alternarsi, essere suscettibili di miglioramento, di cambiamento nella loro potenza per trattamenti corporei, ma anche per trattamenti del volto. Si è cercato di dare una scientificità al metodo estetico. Qual è il fattore distintivo di questo macchinario rispetto a tutti gli altri? Rispetto alla concorrenza ed in questo siamo orgogliosi. Parliamone, io poi dopo faccio delle domande a loro perché so che hanno avuto modo di provare il trattamento. Sono orgogliosi del fatto che il macchinario del genere non esisteva precedentemente, in primis per la coabitazione di diverse forme di energie, ma soprattutto nella metodologia di uso, cioè della possibilità di essere adoperato, nasce questo progetto per il trattamento specifico delle donne durante il periodo pre-durante e post-menopausa. perché le situazioni cambiano ed anche il corpo cambia, cambiano le situazioni ormonali, quindi cambiano anche le strategie mediche da applicare. Quindi la possibilità di modulare queste energie in base addirittura agli esami del sangue che io personalmente controllo in ogni paziente che si può avvicinare all'utilizzo del macchinario, mi dà la possibilità di fare un vestito. Chiamiamo un vestito su misura e cucirlo su misura a un trattamento che fino ad oggi era standardizzato. Oggi in medicina noi stiamo andando alla personalizzazione dei trattamenti, non più alla standardizzazione. Facciamo terapie mirate sulla persona, su quell'organismo, sul suo procedimento metabolico, sulla sua costituzione. E questo è stato l'elemento che ci contraddistingue da tanti concorrenti. Allora ragazze, vengo da voi. Quanto è importante per voi la medicina estetica, la chirurgia estetica? Indubbiamente molto. Sulla chirurgia, apro una piccola parentesi, perché là dove c'è un eccesso, dove ci si mette in mani un po' così improvvisate, questo no. Questo è un messaggio proprio anche a tutte le ragazzine, adesso va tanto di moda la Turchia, andiamoci a fare là, andiamoci a fare là. Siamo qua e affidiamoci, perché ci sono, professori seri, importanti, come anche Stella, come anche il professore, che comunque ne sanno sicuramente qualcosa. E per me, che ti posso dire, sono felicissima di queste persone che sono super professionali e hanno trovato veramente qualcosa che funziona, qualcosa che per le donne, che non sono più giovanissime, esatto. Ovviamente i segni della stanchezza, di gonfiore, veramente ragazzi, ottimo e va assolutamente pubblicizzato di più, deve essere una cosa proprio che tutti ce l'hanno e vi prego fatela anche da tenere a casa perché è un effetto gelo caldo che ha un effetto davvero funzionale, in più la dottoressa Stella ha una tecnica pazzesca per i massaggi di sbloccare la linfa, quindi con un semplice, per noi, semplice, movimento della manina, ti sblocca tutti i punti linfatici, allora da quel momento in poi il massaggio ha la sua forza. Grazie Stella. Grazie, grazie per queste parole. Jessica, tu invece che cosa ne pensi? Sì, la penso esattamente così, nel senso che ovviamente la medicina estetica è molto importante. E quando bisogna ricorrere alla medicina estetica? Perché ci sono veramente delle ragazzine che purtroppo iniziano da giovani e poi magari a 25 anni non si riconoscono neanche più, però a piccole dosi, se ci sono delle imperfezioni da correggere è giusto comunque farlo per migliorare, però non sicuramente stravolgere completamente la fisionomia che noi abbiamo. non si torna, al momento che tu hai stravolto il tuo viso e poi recuperarlo è qualcosa. Non riesci più a tornare alle origini. Allora dottore, lei ha costruito insieme a Stella un team di esperti che seguissero appunto dall'inizio alla fine del percorso un paziente. Sì, abbiamo voluto una collaborazione con lo psicologo perché deve capire e deve dare motivo anche all'aderenza al progetto e al percorso che deve essere eseguito. Naturalmente abbiamo voluto anche consigli da parte di specialisti, un nutrizionista che poi è un nostro collaboratore che lavora presso l'Università di Urbino. Sono tutte persone che hanno un'altissima qualità e professionalità. Un fisioterapista, va bene, per il movimento. Abbiamo voluto accerchiare il problema e seguirlo a 360 gradi per non dare anche la sensazione al cliente di essere sola nell'affrontare quel problema. Quanto è importante mangiare sano? Molto. Noi siamo fatti di quello che mangiamo. Noi, io dico sempre, oramai sono un vecchio medico. Basta con questo vecchio dottore. Vecchio nel senso di esperienza perché sono 46 anni che faccio questo lavoro. Va bene, mi sento ancora giovane ad affrontare queste sfide. E a caccia di complimenti. Però noi nasciamo a 3 kg e 3,5 kg. Diventiamo così attraverso quello che passa dalla nostra bocca. Noi siamo quello che mangiamo. Voi che rapporto avete con la vostra, con l'alimentazione? Assolutamente rigore da 30 anni a questa parte. Io amo mangiare tanto. Se devo iniziare a pesare 50 g di pasta, 20 g di pollo, mi viene una fame che mi mangio tutto il mondo. Invece con questa mia dieta dissociata io unisco carboidrati e verdure o proteine e verdure. Ma le quantità le decido io. L'importante è levare il veleno del sale. Per me il sale è il veleno numero uno. Perché trattiene i liquidi e per la donna vuol dire cellulite. Già, ti che mi piace tu? Allora, nel senso che gli animasti mi tendono a mangiare bene. Però se riesco almeno due volte a settimana io faccio la dieta intermittente. Cioè nel senso che poi dalle 17 in poi, sino al mattino, non mangio più nulla. Perché recupero magari delle volte che esco fuori a cena. Però comunque tendo sempre di trovare un giusto equilibrio. Allora, io non sono d'accordo. Posso dire al volo la mia? Perché secondo me il metabolismo va tenuto sempre attivo. Quindi io sono di quella scuola dove invece ogni due ore devo mangiare. Bisogna mangiare anche solo uno spuntino. Mandorle, noci, frutta, yogurt, tutto il cioccolato fondente. Quindi la dieta non significa soffrire. No. È solo organizzarsi mentalmente. Giusto, Stella? Sì, esattamente. Noi, guarda, Nathalie abbiamo chiamato proprio questa alimentazione corretta, come te la stai veramente pronunciando. Anzi, ti ringraziamo perché diffondere questi principi è di fondamentale importanza. L'abbiamo definita beauty routine edibile. Perché la beauty routine non deve essere soltanto cosmetica, ma deve derivare proprio dal nostro io più interiore, dal nostro interno. Da felicità anche. Esatto, dalla felicità. E abbiamo fatto di più, Raffaella, con il nostro medico nutrizionista, dottor Davide Schembri. Abbiamo proprio voluto apportare un'alimentazione su misura dei cambiamenti ormonali. Quindi cosa vuol dire? Ok, la dieta intermittente va bene, va anche bene, però l'importante è che sia misurata in base proprio alla fase di pre-menopausa, menopausa e post-menopausa. Perché cambia, ad esempio, l'orario di intermittenza con il cibo e quindi questo è fondamentale. Ad esempio, noi trattiamo tantissime donne in menopausa, però in menopausa molto spesso cosa succede? Ci sono le vampate di calore di notte, noi tutti ovviamente odiamo, però tutto dipende dall'alimentazione, perché ad esempio se ti mangi della carne alla sera prima di coricarti, di notte hai le vampate, perché hai mangiato l'animale. L'animale quando viene ucciso produce estamina, libera estamina e questa estamina non muore con l'animale, quindi capisci che di notte c'è questa estamina liberata. Io parliamo di problemi anche legati alla pelle, soprattutto tutto dall'alimentazione, poi ovviamente ci sono dei macchinari che vanno ad aiutare il... Come ormone, ecco perché l'alimentazione fa parte della web app di Ormone Formula Technology, come anche gli esercizi fitness. Con un fisiologo clinico tra i più importanti in Italia, il dottor Franco Lini, insieme ai personal trainer di una palestra che si chiama Movens, proprio una palestra medicale, abbiamo proprio ideato una linea di fitness su misura della donna, proprio rispettando i suoi cambiamenti ormonali. Ok, siamo al festival, vi faccio un'ultimissima domanda, solita, pronostico. Pronostico chi secondo voi tra i 30 artisti in gara merita la vittoria? Allora, io sono a favore di Angelina Mango, perché ho due genelli... Tu ti sento dire che è Angelina Mango, anche perché sembra essere il pezzo più adatto all'Eurovision. Esatto, infatti. Io mi auguro con tutto il cuore Loredana. Loredana Merite. Perché è una grandissima artista. Che tra l'altro è tra i primi posti. Sì, ha fatto un pezzo bellissimo, è una persona che merita davvero tanto, ma è una grande artista in primis, la Mango ha tutta la vita davanti senza toglierle nulla. È già partita la grandissima, avrà un successo esagerato di suo, però la Loredana è Loredana. E io sono figlia di Loredana. Lei dottore? Sì, sono d'accordo. Se il premio deve essere ad una carriera, a quello che è stato fatto e allo spessore della persona, sicuramente era per te. Se guardiamo al futuro, direi che la Mango potrebbe essere... Angelina, anche Annalisa, non è male. Esatto, potrebbe essere qualcosa di liga. Jessica, qual è il tuo concitore? La Mango, la Mango, abbiamo tre Mango. Allora noi facciamo un grande in bocca al lupo ad Angelina. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Grazie a lei. Viva il festival. Un basso. Ciao, da Sanremo. Ciao, ciao.